E' la parantella Lucana, adesso vi lascio ascoltare, la parantella Vigiletti con quella che si noto E' la parantella Lucana, adesso vi lascio ascoltare, la parantella Lucana Lucana, adesso vi lascio ascoltare Questa è la parantella Lucana, adesso vi lascio ascoltare, la parantella che è più nell'entrotera della fascicata, più vai nell'entrotera sulle montagne della fascicata, più i ritmi della tarantella si fanno venti, questa è la tarantella per la fascicata, più i ritmi della tarantella si fanno venti, questa è la tarantella si fanno venti, questa è la tarantella si fanno venti, questa è la tarantella si fanno venti, la tarantella si fanno venti, questa è la tarantella si fanno venti, questa è la tarantella si fanno venti, Adesso ci spostiamo in un paese vicino, la Calabria dovrebbe confere con la Calabria, e fino alla sera di passato Sarandella Calabria, è molto più lenta la Sarandella Calabria, la Sarandella Lavriota. S.I.L.A. 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 E dopo la giornata di lavorio noi torniamo a Pizzaro nel nostro paese, il nostro paese non vince niente. Grazie per la visione! Grazie a tutti!